Un'aula delle Conservatorio Rossini di Pesaro viene intitolata alla memoria di Georgi Atanasov, compositore bulgaro legato all'istituzione musicale pesarese, la cui targa d'onore è stata svelata oggi alla presenza di Tania Dimitrova, console generale della Repubblica di Bulgaria Milano, accolta oggi dai vertici del Conservatorio e dal presidente del Consiglio Comunale, Marco Perugini. Nel 140esimo anno di fondazione del Conservatorio si tratta dell'ennesima testimonianza di un secolo e mezzo di incontri e commissioni culturali all'interno delle aule di Palazzo Livieri. Tazanov che visse fino al 1931 ebbe modo di essere qui con Mascagni per circa due anni, si formò quindi alla nostra cultura e questa cultura venne per la prima volta poi sviluppata nella Bulgaria. Pensare a questi riconoscimenti tra popoli significa predicare in una logica di fratellanza, di condivisione, significa anche generare pace attraverso la cultura ed in particolare la musica. Il Conservatorio di Pesaro che quest'anno compie il 140esimo anno di attività di produzione didattica e artistica ha avuto la fortuna di ospitare e di fare incontrare tantissime tantissime personalità del mondo della musica e della cultura in genere grazie al dono Rossiniano. Quindi basti pensare a tutti i vari personaggi, partire da Mascagni, Zandonai, Renata Tebaldi, Mario Del Monaco e questa mattina un altro dei figli che magari fino a qualche tempo fa non eravamo neppure a conoscenza perché sono veramente tante le figure che hanno attraversato questo conservatorio luogo dell'incontro. Questo che Orghi a Tannasofa è testimonianza di quanto questo conservatorio sia stato determinante per la cultura non solo nazionale ma internazionale e addirittura abbia dato anche fondamento a un inizio di ricerca etnomusicologica nei loro paesi d'origine perché ovviamente arrivare in Italia e incontrare una figura come Mascagni non poteva lasciare indifferente un giovane compositore, uno che comunque cominciava a mettersi su queste tracce. Noi dobbiamo segnalare al pubblico che in realtà noi continuiamo ad essere un luogo dell'incontro. Noi abbiamo docenti per i quali studenti arrivano dal Messico, arrivano da tutta l'Europa a studiare determinati strumenti tra cui violino barocco, sassofono ma anche tantissimi altri studenti. Abbiamo dei dipartimenti con delle autorità musicali.